Una cresciuta attenzione i temi ambientali e il mutamento del quadro climatico con la presenza sempre più diffusa di periodi di siccità intervallati da forti precipitazioni a carattere temporalesco e talora alluvionale, contribuiscono a indirizzare il mondo produttivo verso una gestione sempre più razionale e attenta delle risorse idriche. L'associazione dei consorsi che rappresento annovera tra i suoi accoliti tutte le strutture irrigue che esistono in Piemonte, la gran parte, e che amministrano quindi le acque. La sua funzione è quella di coordinare quelli che sono gli interventi, coordinare quella che è l'attività dei consorsi irrigui e in un momento come questo in cui non si fa che parlare di siccità io credo che sia anche opportuno parlare da una parte di siccità ma dall'altra anche parlare di quello che può essere l'approvvigionamento idrico. I problemi sono sulla tavola, si sta parlando su tavoli romani e anche regionali di questi argomenti. penso che sia importante trovare una soluzione perché oggi quella che è la risorsa idrica, abbiamo dei momenti in cui arriva con delle piogge monsoniche e abbiamo viceversa dei momenti di grande siccità come ora. Quindi è importante riuscire a riaprire una politica degli invasi o compatibilmente con dei bacini o trovare il sistema per immagazzinare l'acqua quando arriva e rilasciarla quando ci manca. Fondamentalmente i consorsi irrigui si pongono come soggetti che da sempre, da centinaia d'anni, svolgono questo lavoro e vogliono continuare a svolgerlo nell'interesse di tutta la collettività. Il ruolo di gestore della rete di canali e di corsi d'acqua che SESI svolge non va a beneficio solo dell'agricoltura ma va a beneficio dell'intera collettività e del territorio soprattutto. perché quando piove anche in misura cospicua quindi eventi estremi come stanno capitando spesso in questi ultimi anni il personale, tutta l'organizzazione operativa di SESI è chiamata a agire in modo tale da contenere le esondazioni d'acqua dai corsi d'acqua, distribuire i quantitativi d'acqua verso i canali che possono riceverli e quindi svolgendo un'effettiva funzione di salvaguardia territoriale e ambientale quella che oggi potremmo identificare come contrasto al dissesto idrogeologico. Questo è un aspetto fondamentale che va sottolineato oggi è svolto a totale carico del mondo agricolo, degli agricoltori perché non c'è nessun riconoscimento da parte dello Stato e delle regioni di questa attività fondamentale. Tutto questo ovviamente viene di conseguenza rispetto all'attività istituzionale principale che è quella della distribuzione dell'acqua soprattutto alla risicoltura. La risicoltura praticata in terreni che per un determinato periodo di tempo vengono sommersi dalle acque per favorire la crescita delle giovani piantine del cereale negli ultimi tempi è al centro della tensione proprio per l'utilizzo della risorsa idrica data l'unidefinito eccessivo. In realtà le risaie non sprecano acqua e grazie anche alle moderne tecniche dell'agricoltura di precisione riutilizzano per più volte le medesime risorse fino a restituire al fiume Po ottimizzando l'uso delle acque con tecniche di irrigazione tradizionali. Inoltre queste acque non vengono sottratte ad altri usi e contribuiscono alla produzione di ingenti quantitativi di energia idroelettrica. Spesso sull'agricoltura la si incrimina per qualsiasi cosa del capo espiatorio in realtà basta semplicemente guardare nei momenti in cui non viene erogata l'acqua dei consorzi specie nella stagione invernale perché si fanno tutti i lavori di sistemazione dei canali ad esempio il livello delle falde come si abbassa quindi è fondamentale capire che invece l'irrigazione e l'acqua condotta in tutte le pianure è estremamente importante per la ricarica delle falde noi abbiamo dei consorzi irrigui in Friuli che ad esempio aiutano ad implementare le falde che si sono esaurite con l'acqua portata dai fiumi quindi questo è un nuovo sistema per cercare di mantenere quello che è il livello delle falde e su questo credo che si sono dette molte falsità ma oramai ci sono dei dati incontrovertibili che invece ci permettono di dire che l'irrigazione in questo non è un consumo ma bensì anche un aiuto a quello che è il nostro sistema irriguo e idrico in generale l'attività dell'ente va a beneficio direi di una consistente parte 50% circa della sproduzione resicola nazionale che si attua in queste due porzioni di territorio Basso-Novarese e Lomellina in questo caso il compito nostro è proprio quello di garantire a tutti una equa distribuzione, a tutti i nostri utenti, a tutti gli agricoltori e agricoltori un'equa distribuzione dell'acqua disponibile prelevata dai fiumi, dal Po, dalla Dorabaltia, dal Sesia, dal Ticino quindi tutta l'acqua che proviene dal Lago Maggiore regolato quindi tutto questo insieme di fonti di approvvigionamento viene connesso, interconnesso dalla rete dei canali di cui il canale Cavour è il principale rappresentante e così c'è la possibilità di utilizzare in modo equilibrato le varie fonti di approvvigionamento proprio per fronteggiare una crisi da una parte viene compensato forzando l'utilizzazione di un'altra fonte e viceversa Grazie a tutti L'altra funzione fondamentale che si affianca che si è fortemente affiancata in questi anni a queste due attività quindi contrasto al dissesto idrogeologico distribuzione dell'acqua di irrigazione e quella di produzione di energia di energia idroelettrica quindi energia pulita a tutti gli effetti che viene attuata attraverso il funzionamento di una cinquantina di centrali idroelettriche di piccola taglia però in numero consistente che sono presenti lungo tutta la nostra rete di canali in questo modo quindi manifestando e sottolineando in modo veramente operativo pratico, consistente, tangibile il concetto dell'uso plurimo della risorsa idrica grazie a tutti Autore dei sovrapposti